Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. A te, oh Beato Giuseppe, spinti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità, che ti strinza l'ibacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portassi al fanciullo Gesù, guardati, preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e con il tuo potere d'aiuto sovvvieni alle nostre necessità. Come un tempo salvassi dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa dalle insidie del diavolo e da ogni avversità, e stendi sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché sul tuo esempio e per il tuo aiuto possiamo vivere virtuosamente e conseguire l'eterna beatitudine in cielo, con te, con Maria, con tutti i Santi. Il primo mistero glorioso ci porta all'annuncio bello del giorno di Pasqua. Cristo è risorto. Allora, l'ultima parola non è il dolore, ma la gioia. L'ultima parola non è la cattiveria, ma la bontà che vince. L'ultima parola non è la morte, ma la vita che risorge. La risurrezione di Gesù è la sorgente di tutto il nostro ottimismo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. D'acce oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero glorioso è l'ascensione di Gesù al cielo. Con l'ascensione Gesù non ci ha abbandonato, ma è sempre presente in modo invisibile, perché vuole che noi rendiamo visibile la sua bontà, la sua umiltà, la sua misericordia. Pensate, Carlo de Foucault diceva sempre il mio apostolato deve essere l'apostolato della bontà. Guardandomi devono dire se quest'uomo è così buono, deve essere buona anche la sua religione. E se mi chiedono, ma chi ha insegnato questa bontà? Allora dirò, il mio maestro è Gesù, lui è infinitamente buono, se volete conoscerlo, venite, ve lo faccio conoscere. Questo è l'apostolato. Padre nostro. Se ne cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù. Lo Spirito Santo discende sugli apostoli in preghiera, con Maria nel cenacolo. Li riempie di forza, di coraggio, di entusiasmo. E Pietro, in una pubblica piazza, dove non aveva mai parlato, grida con tutta la sua forza, Cristo è risorto, è l'unico Salvatore, l'unico che possa liberarci dal male, possa liberarci dal peccato. Oggi abbiamo bisogno di ripartire missionari in un mondo che è oggi settanto allontanato da Gesù. O Spirito Santo, Gesù ha rivelato il tuo mistero e ha detto che tu sarai il nostro Consolatore ogni giorno fino al suo ritorno. Noi crediamo in te e crediamo che questa è l'ora tua, l'ora della Pentecoste. Vieni, Spirito Santo, vieni, rendici un cuore solo e un'anima sola, affinché, vedendo la nostra carità, il mondo creda che Gesù è il Figlio di Dio. Vieni, Spirito Santo, Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca con noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, discendi su di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con erano i principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria è l'assunzione di Maria al cielo in anime e corpo, perché Dio esalta gli umili e nessuna creatura è stata umile come Maria. Aveva ragione San Bernardo quando disse «Maria è piaciuta a Dio per la sua umiltà, Padre nostro». Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Il quinto mistero glorioso è il Paradiso, dove Maria è regina degli angeli e dei santi, e dove noi speriamo un giorno di arrivare, di entrare nella festa del cielo. Ogni giorno, quando ci alziamo, dobbiamo esclamare un altro giorno, un altro passo verso il Paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma libresi dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Michele, Arcangelo, difendici nella lotta. Sì tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio esergiti il suo dominio su di Lui. Preghiamo supplichevoli. E tuo Principe, della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana. E tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuri, figli di Eva. A te sospiriamo, cementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergine prega per noi. Madre di Cristo prega per noi, Madre della Chiesa prega per noi, Madre della Misericordia prega per noi, Madre della Divina Grazia prega per noi, Madre della Speranza prega per noi. Madre purissima prega per noi, Madre castissima prega per noi, Madre sempre Vergine prega per noi, Madre invalorata prega per noi. Madre degna d'amore prega per noi, Madre ammirabile prega per noi, Madre del Buon Consiglio prega per noi, Madre del Creatore prega per noi. Madre del Salvatore prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi, Madre di Misericordia prega per noi, Vergine prudentissima prega per noi. Madre del Salvatore prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi, Vergine degna di l'ore prega per noi, Vergine potente prega per noi, Vergine clemente prega per noi, Vergine fedele prega per noi. Specchio della Santità prega per noi, Sede della Sapienza prega per noi, Causa della nostra Letizia prega per noi, Tempio dello Spirito Santo prega per noi. Tabernacolo dell'Avernacolo dell'Avernacolo dell'eterna gloria prega per noi, Dimora tutta consacrata a Dio prega per noi, Rosa mistica prega per noi, Torre di Davide prega per noi, Torre Lavorio prega per noi, Casa d'Oro prega per noi, Arca dell'Arca dell'Arca prega per noi, Arca dell'Alleanza prega per noi, Porta del Cielo prega per noi, Stella del Mattino prega per noi, Salute degli infermi prega per noi, Rifugio dei peccatori prega per noi, Conforto dei migranti prega per noi, Conforto dei migranti prega per noi, Consolatrice degli affritti prega per noi, Aiuto dei cristiani prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina dei migranti prega per noi, Regina dei migranti prega per noi, Regina dei migranti prega per noi, Regina dei veri cristiani prega per noi, Regina dei migranti prega per noi, Regina dei migranti prega per noi, Regina di tutti i santi prega per noi, Regina concepita senza peccato originale prega per noi, Regina assunta in cielo prega per noi, Regina del Santo Rosario prega per noi, Regina della famiglia prega per noi, Regina della pace prega per noi, Regina del cielo e della terra prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci Signore, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci Signore, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abiti e capi noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti i legni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la Tua grazia, oh Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amén. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi riempie il cuore di tanta pace, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén. Con la vostra serenità dite a tutti che Cristo è risorto. Andate in pace. E diamo grazie a Dio. Dio Onnipotente, Dio Onnipotente, Dio Onnipotente, Dio Onnipotente. Dio Onnipotente, 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 Dio Onnip Di tutti malati solleva il dolore, consola chi soffre nel corpo e nel cuore. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria.